Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Alex98bise e oggi siamo su FNAF World Allora, io le squadre già le ho composte, la prima squadra è da Freddy, Bonnie, Chica e Foxy, l'altra squadra è da Toy Freddy, Toy Bonnie, Toy Chica e Mangold E adesso ho trovato un boss, quindi proviamo a sconfiggere il boss Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ok, abbiamo sconfitto il boss Ok, abbiamo trovato un boss Ok, allora, dopo due queste partite, dopo queste due partite, io volevo fare vedere i nuovi personaggi Che ho spaccato davvero Phantom Chica, Phantom Balloon Boy, Phantom Angle, JJ e White Red Chica Con questo è finito il video e noi ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti